Qualunque sia la data della riapertura, sia essa a fine aprile, primi maggio o ancora più avanti, è chiaro che noi non potremo comunque, questa è la mia convinzione, non potremo riaprire i luoghi caratterizzati da forti assembramenti a scopo ludico, oppure ad altri scopi, tipo per esempio congressi o situazioni in cui si pongono nella stessa stanza tantissime persone. Quello sicuramente dovrà essere posposto e non so quando si potrà ripartire con gli stadi affollati, le piscine, le palestre, i pub e tutte queste cose, questo è il primo punto. I ristoranti rappresentano un punto un po' particolare, i ristoranti potrebbero essere riaperti, però come hanno fatto in Corea, mettendo delle paratie per cui ognuno scena un tavolo separato dall'altro, anche se diciamo fa parte della stessa comitiva, quindi una situazione un po' complicata.